Ciao ragazzi, siamo cello vs la gitarra cello vs la gitarra Marco Filippini, sono la gitarra e la voce Vittorio Savoini cello la gitarra e la voce e è solo una battaglia è una grande challenge che comincia ora una guerra chi è il vincitore? ah, boh siamo musicisti italiani e giociamo un tipo di musica molto strana seguiteci su Instagram, YouTube, Facebook cello vs la gitarra cello vs la gitarra a a